nft su bitcoin quanti di voi hanno ormai sentito parlare di nft su bitcoin e degli ordinales ma cosa sono in realtà questi ordinales e possiamo davvero chiamarli nft su bitcoin per semplicità di comprensione continueremo a chiamarli nft su bitcoin ma in realtà non sono proprio dei veri nft in quanto si va in questo caso ad associare un dato a un satoshi ben specifico questi dati che vengono associati a un satoshi che possono essere file jpeg e video sfruttano degli aggiornamenti che sono avvenuti prima nel 2017 con il seguit e successivamente nel 2021 con il taproot aggiornamenti che vanno anche ad influire sul tema della registrazione dei dati sui nodi della bloccendi bitcoin tutto questo nft su bitcoin che parte dagli ordinales non sono delle modifiche al codice al protocollo bitcoin ma messi un application layer che permette di implementare queste funzioni per quanto riguarda gli ordinales che funziona è il protocollo che permette di mettere in ordine i satoshi di dargli un numero seriale come fosse proprio un numero di serie di riconoscimento questo numero di riconoscimento avviene in ordine di mining e grazie poi successivamente all'inscription si possono andare ad associare a questi satoshi immagini file jpeg video e altre funzionalità che poi pian piano andranno sviluppate e implementate in buona sostanza quindi un nft tra virgolette su bitcoin non è nient'altro che un satoshi messo in ordinales con la funzione ordinales come abbiamo visto in un determinato ordine con annesso inciso un determinato dato archiviato se ci pensiamo gli ordinales sono una vera e propria svolta su bitcoin che va a consentire di andare a archiviare dati on chain senza necessariamente l'utilizzo di smart contract come può avvenire ad esempio sui tirium oppure su solana per citarne due i primi scambi che si potevano fare che si possono fare anche p2p su bitcoin ordinales abbiamo o rdx successivamente su stax è stato introdotto il marketplace chiamiamolo così nft sugli ordinales e pochi giorni fa anche magic eden un forte marketplace nft su solana annunciato il supporto degli ordinales ma in che modo dobbiamo detenere gli ordinales e dove in effetti possiamo andare a mintare questi ordinales a vederli a scambiarli ci spostiamo sul pc possiamo detenere gli ordinales su alcuni wallet bitcoin che hanno avuto l'aggiornamento a taproot questo è essenziale deve esserci per forza l'aggiornamento a taproot uno dei più comuni che viene utilizzato è ordinales wallet raggiungibile all'indirizzo ordinales wallet.com tra l'altro su ordine al wallet a parte creare o ripristinare un portafoglio dedicato per gli ordinales possiamo anche andare a vedere le collezioni che sono state incise all'interno dei satoshi e possiamo anche andare ad acquistare come potete vedere le immagini sottostanti dove abbiamo anche il prezzo cliccando sull'immagine andiamo a vedere il numero dell'inscription la collezione il proprietario le informazioni tramite l'id possiamo andarlo a condividere sui social oppure parla appunto acquistarlo and tornando su home andiamo a creare un portafoglio è semplicemente si va a creare un wallet come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni quindi si fa create new wallet si va a inserire una password dopodiché se va a generare il seed phrase si va a salvare a copiare per appunto le parole segrete la prova di verifica e si crea il portafoglio a questo punto noi possiamo andare a inviare ricevere gli ordinales visualizzare la nostra collezione copiare l'indirizzo per andarlo a inserire eventualmente in un portale per ricevere gli ordinales oppure in un portale dove noi stessi andiamo a creare degli ordina se vogliamo detenerli all'interno del nostro portafoglio una cosa importante in questo portafoglio comunque quelli dedicati agli ordinales non andate a detenere bitcoin i portafogli o i contenenti bitcoin sono una cosa i portafogli contenenti gli ordina se sono un'altra cosa teneteli davvero separati immaginatevi solamente di dover mandare una transazione un pagamento è erroneamente andare a mandare dei satoshi contenente un ordinales quindi evitare questi errori è d'obbligo e quindi è meglio tenere i satoshi da transazione e satoshi ordinales separati spostandoci su gamma punto io gamma è un marketplace per gli bitcoin nfts che è stato creato su stats per andare a mintare un nostro ordinales quindi andare effettuare un incisione basta andare su create create inscription e in questa schermata possiamo andare a inserire testi immagini come ad esempio vado a inserire la mia vecchia copertina del canale youtube clicco su continua e come potete vedere queste sono le fi che si vanno a spendere in questo momento per andare a effettuare l'inscription si seleziona le fi che più convengono per il nostro utilizzo in questa sezione andiamo a inserire il wallet l'indirizzo dove riceve il nostro ordinales come ad esempio l'indirizzo di ordinales wallet un indirizzo dire found è anche un indirizzo e mail nostro dopo di che si va su continua alla voce al punto 5 alla voce pay andranno a generare un indirizzo sul quale noi andremo a inviare il costo per l'inscription abbiamo quindi compreso che gli ordinales sono sostanzialmente diversi dagli effetti veri e propri proprio dal lato comparto tecnico gli ordinales permettono di dare un ordine al ai satoshi l'aiutano ad essere identificato in modo univoco e contenere dei dati e questi dati archiviati sono archiviati on chain lo standard ad esempio 721 di eti rim contiene dei metà dati che nella maggior parte dei casi anzi generalmente viene detenuto of cena bensì che gli ordinales sono emersi nell'ultimo periodo in realtà la tokenizzazione su bitcoin è stata lanciata comunque si pensava già di lanciarla molto prima della creazione degli nfp sui tirio addirittura già nel 2012 con un progetto open source che veniva chiamato coros coin questo progetto mirava a inserire una nuova metodologia su bitcoin dove prendeva un collegamento di risorse anche ad esempio nel mondo reale e se andava a inserire in un set di uti x o colori coin è stato il primo progetto a utilizzare il meccanismo epo bc che facilitava il trasferimento di monete colorate che si distinguevano da altre bitcoin grazie a un tag nel campo n sequins del primo input della transazione n sequins è sempre presente e viene inutilizzata dai nodi completi infatti può essere anche eliminata sebbene questo progetto è stato il primo a tentare di creare risorse digitali su bitcoin non ha riscosso l'interesse della comunità bitcoin perché è nato purtroppo in un periodo dove questi nfp dove questi dati sulla cena di bitcoin non attiravano l'attenzione come in quest'anno successivamente nel 2014 name coin il primo forte di bitcoin accognato il primo in effetti in assoluto quello di uno storico progetto che ha chiamato quantum nonostante questo evento chiamiamolo storico non sia in realtà verificato su bitcoin perché è stato proprio su un fork l'emergere di questa possibilità di andare a creare arte digitale su un fork di bitcoin è stato veramente notevole è un passo molto avanti un altro tentativo poi è stato fatto sempre nel 2014 da master coin poi rinominata omni layer per creare una sorta di applicazione per permettere tokenizzazione all'interno di bitcoin arrivando poi nel 2021 con la blocce di stax che viene definita la sai una side cene di bitcoin che ha portato poi pian piano a tutte queste creazioni ad oggi conosciute nel 2023 con gli ordinal e l'inscription che ha portato poi pian piano 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 Grazie a tutti.